Antonio Bauce, buonasera, sono un produttore di mostarde biologiche, l'azienda è B73, ho una serie di prodotti molto particolari, sono riuscito a creare dei gusti fuori dal comune, lavorando col territorio trevigiano, specialmente con produzioni di nicchia per cui piccole aziende, dando rilievo a delle produzioni di alta qualità, puntando solo e solamente sull'alta qualità e in più il mondo del biologico. Lo scopo dell'azienda e lo scopo dell'attività è portare un'italianità e un territorio che offre comunque nel piccolo del Veneto, ma nel grande dell'Italia, comunque piccolo rispetto al mondo, posso offrire un'eccellenza fatta di sapori, di piccole particolarità molto ricercate, per cui questo è uno degli scopi della mia produzione, della mia presenza qua oggi. Noi siamo all'Hotel Victoria, nei piani bassi, per cui le degustazioni saranno lì, abbiamo uno stand con gran parte della gamma in esposizione e degustazione. In più, nelle serate organizzate a partire da questa sera, alle serate di domani, gli chef useranno i nostri prodotti per creare dei piatti particolari. Grazie.